Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo qui per un nuovo tutorial su come scaricare le hack di FNF ovvero un singolo pulsante per tutto il gioco quindi se poi volete anche altre hack, altre cose basterà lasciare un commento iscrivervi e lasciare like e basta condividere anche questo video se volete supportarmi ragazzi vi lascerò il link in descrizione di FNF e Bot Mobile quindi appunto andando questo link e scaricando avete FNF Bot ora vi spiegherò potete sia attivare o disattivare le vostre hack quindi poi potete giocare anche normalmente come volete voi quindi potete avere tutto in uno ho fatto molte ricerche e ho trovato questo dove voi avevate possibilità di scegliere a 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 Grazie a tutti.